Entriamo in Croazia dalla E65 che più di una strada sembra una pista ma oltre l'asfalto vogliamo provare anche qualche sterrato ed eccoci a invoccare un sentiero che ci porterà in cima a un monte da cui si gode una vista spettacolare. Ci dirigiamo verso Zara dove ci godiamo un bellissimo tramonto accompagnato dalla musica dell'organo marino. Prima di raggiungere il confine con la Bosnia degli allegri ragazzini ci accompagnano con delle loro accompazzine. Si entra in Bosnia. Il paesaggio qui cambia. Il territorio diventa molto più selvaggio. Raggiungiamo Mostar dove trascorreremo una piacevole serata tra luci e souvenir. Proseguiamo costeggiando il fiume Tara dove tra mucche e sterrati raggiungiamo la frontiera e la panna differenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. qui il paesaggio cambia nuovamente costeggiamo il canyon del Tara tra i più lunghi al mondo tra gallerie scavate nella roccia e stradiombi sul fiume ci avviciniamo al parco nazionale del Durmitor e stradiombi sul fiume la vista dall'alto è veramente mozzafiato e non manchiamo di scattare numerose foto sullo sfondo vediamo il monte Durmitor dal profilo unico e non manchiamo di scattare numerose un saluto al fiordo di Kotor ed eccoci in Albania e da qui al Kosovo è un attimo buon appetito grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti